Sono già disponibili in fase di prevendita i tagliandi relativi alla gara Crotone-Modena, infrasettimanale di domani sera della 35esima giornata, con la speranza che dopo la rassicurante vittoria ottenuta nelle Marche, l'incontro serale possa richiamare più tifosi del solito per spingere Galardo e compagni alla grande impresa. Complimenti per la partita entusiasmante di Ancona dove abbiamo conquistato tre punti importantissimi, ci ripaghiamo di quei tre punti che ci avevano tolto a Piacenza, hai mantenuto la promessa, hai sfatato anche il comero. Sì, innanzitutto abbiamo preso tre punti per noi fondamentali perché comunque ci avvicinano ulteriormente quello che è il nostro obiettivo e è vero quello che hai detto che non meritavamo di perdere a Piacenza e c'è stato subito il pronto riscatto da parte dei ragazzi che con questa vittoria qui facciamo un bel passo in avanti. Domani arriva il Modena, un'altra partita delicatissima, vincere incrociando le dita significherebbe metterci definitivamente fuori dalla lotta? Sì, lo penso anch'io, è una partita contro una squadra che ti permette di giocare poco perché si racchiude bene con tanti uomini e poi pensa a ripartire con giocatori anche pericolosi tipo Bruno, tipo Pinardi davanti e quindi sarà una partita molto insidiosa, però sappiamo che per noi è fondamentale perché ci permetterebbe di chiudere con largo anticipo e quello che erano le nostre ambizioni e quindi se dovessimo fare l'intera posta vuol dire che siamo stati bravi. Una giornata che ci concede di lasciare alle spalle tantissime squadre e soprattutto allontanare la zona play-out perché ora è più lontana di sette punti. Guardando in avanti, anche se non ti piace questo discorso, notiamo che i play-off sono soltanto sei punti, siamo proprio in una via di mezzo. Non è che non mi piace, mi piace guardare in avanti, però adesso dobbiamo chiudere ancora un discorso e una volta chiuso questo poi come ho sempre detto vediamo quante partite mancano, vediamo come siamo messi, vediamo come sono messi gli altri ed eventualmente possiamo pensare partita dopo partita cosa può succedere. Adesso però dobbiamo prima finire il nostro mandato e quindi prima lo facciamo meglio, abbiamo l'occasione di farlo tra un paio di giorni contro una squadra ripeto che è difficile da affrontare, una squadra che annoverà anche delle individualità di un certo spessore e quindi non sarà facile. La squadra recupererà sì le condizioni soprattutto fisiche perché mentali ritengo che ci siano tutte ormai? Sì, io credo che sono correlate le due cose, quando fai il risultato e stai bene è più facile anche il recupero. Sabato, ieri per la prima volta abbiamo incontrato un clima diciamo più caldo e quindi abbiamo speso un po' più del solito però è anche vero che adesso giochiamo, dopo domani sera giochiamo di sera quindi avremo un clima diverso e quindi credo che noi recupereremo il 100%.